amici della fisso eccoci di nuovo per una grande stagione di orientini come direte voi è tutto fermo no i nostri orientisti non si fermano mai e questo video lo dimostra un saluto da Ghietti e Borghi dove la situazione è ancora abbastanza normale però si lavora tutti da casa ciao ciao tutti sono Anna vi presento i miei obiettivi rivisitati per questa nuova stagione agonistica del 2020 ma il mio attrezzo preferito calcettoni da casa amici invitisti ciao avevo sentito che a Toursi ci sarebbe stata una grande quarantena ma non pensavo una cosa così in questo momento saremmo dovuti essere lì e invece dobbiamo stare a casa facendo degli esercizi tanti tanti giochi online perché no una partita a carte speriamo di poterci vedere presto ci vediamo presto sui campi gara ciao a tutti ciao e il mondo dell'Orienteering vi parlo da Bergamo dove c'è poco tempo per annoiarsi si riescono a fare tante cose in queste giornate di quarantena che ormai siamo già due settimane tra cui anche guardare fuori dalla finestra mi raccomando sempre in forma c'è sempre modo per allenarsi per fare del buon Orienteering anche stando in caldo forza che siamo a buon punto tenete duro ciao a tutti durante questi periodi di quarantena gli allenamenti si svolgono con circuit training sedute con bici da spinning come sto facendo ora e non mancano in mente secco per ironia della sorte sono anche le uniche cose che posso fare perché mi sono infortunato ma mi piace pensare e abbia scelto il momento giusto per farlo ci si vede nei campi gara ciao